Puntare sul cibo più amato dai bambini per far diventare più allettante un prodotto ricco di effetti salutari ma ancora troppo poco consumato. Eccolo qui il primo burger a base di pesce azzurro pescato in Salento, preparato con suro di moscardino e spezie, ideato nell'ambito del progetto mitico per valorizzare il consumo di pesce azzurro con particolare attenzione ai giovani in età scolare. Progetto che vede insieme le province di Lecce, Ente Capofila, Bat, Brindisi, Foggia e Taranto con la città metropolita di Bari. Per entrare all'interno delle famiglie noi abbiamo pensato con il progetto mitico di utilizzare il principale cavallo di Troia, cioè il bambino che va a scuola, che incontra le maestre, i consulenti, le province e incontrando questo nuovo prodotto che si chiama hamburger e come dire apprezza ancora di più quelle che sono le caratteristiche che magari per lui sono un po' distanti dei principi nutrizionali, di tutte quelle belle parolone di cui ci riempiamo i libri e la bibliografia scientifica. Per il momento è solo un'idea su cui i consulenti scientifici del progetto stanno lavorando per un eventuale lancio sul mercato. Un burger di pesce azzurro per il 65% e poi avrà il 30% di moscardino e il 5% di spezie. Ha presentato anche l'Atlante del pesce azzurro, del basso adriatico e dell'Oionio a trasformarsi in un'app portatile e consultabile in ogni momento col proprio smartphone.